Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di come spostarsi alle 5 terre. Questo è l'ultimo video che farò riguardante questo viaggio, perciò vi chiedo l'iscrizione e di attivare la campanella così da non perdervi i miei prossimi viaggi. Per iniziare vi dico che ci sono due metodi per spostarsi alle 5 terre. Uno è il treno e l'altro è a piedi. Quello che vi consiglio sinceramente è quello in treno, infatti grazie ad abbonamento che è possibile fare a inizio giornata, potrete utilizzare tutto il giorno il treno già pagato con una cifra di circa 32 euro, poi in base alla stagione cambio il prezzo così da potervi spostare quando volete e quanto volete per ammirare le bellezze delle 5 terre e ottimizzare i tempi. Per esperienza vi posso dire che con questo abbonamento utilizzando i treni e quindi tutti i servizi che offre quest'ultimo potrete visitare tutte le 5 terre in un giorno così da fare solo una volta l'abbonamento e non più volte. Mentre invece se volete andare a piedi vi assicuro che un giorno non basta in quanto da un borgo all'altro ci sarà almeno un'ora e mezza a piedi. Se hai seguito tutta la serie delle 5 terre sicuramente sarai pronto per affrontare un viaggio e godertelo al meglio. Se il video ti è stato utile o ti è piaciuto iscriviti e lascia like, inoltre attiva la campanella così che ogni volta che esce un video ti arrivi una notifica così da supportare il mio canale e me stesso. Grazie